Frequento Vicenza Oro sostanzialmente da quando avevo 14 anni accompagnando mio padre, quindi ho una discreta conoscenza della fiera stessa. È sempre un punto di incontro, un punto di ritrovo, un punto di formazione, oltre ovviamente la ricerca, è fondamentale nella ricerca delle nuove tendenze ed eventualmente nuovi brand da poter inserire all'interno dei punti vendita. Un appuntamento per quanto ci riguarda è essenziale, è imprescindibile per la buona riuscita alla vita dell'azienda stessa. Per quanto riguarda è stato fondamentale venire a Voice, nonostante le oggettive difficoltà che contraddistinguono questi tempi, perché pur in una versione ridotta della fiera stessa, di Voice stesso, è come detto sempre un punto di incontro, di formazione e di scoperta di nuove tendenze del mondo del gioiello.